Sta finalmente per iniziare la fase della campagna vaccinale che coinvolge il personale scolastico e le forze armate di polizia di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Le modalità di prenotazione sono le stesse già avviate per gli ultraottantenni. Basterà quindi recarsi sul sito adesioni vaccinazionicovid.regione.molise.it e prenotare appunto il vaccino. Poi sarà comunicato il giorno in cui ci si dovrà presentare nel punto prestabilito. L'attivazione di tale fase arriva dopo l'incontro che c'è stato nelle scorse ore tra sindacati, ufficio scolastico, ASREM e il sottosegretario di Baggio. Vigileremo sul rispetto degli impegni presi hanno affermato i sindacati e sul corretto svolgimento della campagna. Invitiamo il personale tutto ad aderire siamo sicuri che per l'ennesima volta i lavoratori della scuola continueranno a dare l'esempio in modo da permettere di superare questa difficile fase del nostro paese. Florenzano a Teleregione ha spiegato i dettagli durante Conto alla Rovescia. Prima di tutto la disponibilità che ci ha dato la Unimol, il rettore brunese, per l'utilizzo del pala Unimol per eseguire le vaccinazioni del diciamo in primis del mondo della scuola ma poi anche per inizieranno lunedì mi pare queste vaccinazioni. E poi ancora stiamo calendarizzando gli interventi per le forze armate e per il personale della scuola. Stamattina ho fatto una riunione insieme al direttore regionale della pubblica istruzione e nella quale anche alla presenza dei sindacati quindi dei rappresentanti del mondo della scuola abbiamo fornito loro chiarimenti su quello che sarà l'attivazione.